allora ragazzi stamattina è stata una mattinata strana 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 proprio strana perché perché in poche parole io quando esco da casa la prima cosa che faccio mi metto il telefonino sul sedile e mi ascolto qualche video e quando apro youtube il primo video che mi esce sempre è quello di gigetto nell'azzurro e poi mi escono proprio in fila mi escono ogni mattina così forse perché sono quelli che non lo so e comunque gigetto nell'azzurro poi bandito e poi vessicchio quelli di gio benzinero e del rovagnolo poi mi rivedo quando venne diciamo nel pomeriggio e niente mi sento quello di gigetto mi rilasso un poco quello fa troppo ridere perché davvero dice cose giuste no però le dice in quel modo che davvero è bello è bello proprio da sentire è bello e poi invece però cosa succede che passi dal gigetto al bandito capite ragazzi che differenza che differenza passare dal gigetto al bandito c'è una differenza enorme perché da una parte senti uno che non urla però che c'è una voce grintosa una voce però nello stesso tempo simpatica e dall'altra invece buongiorno povero del bandito buongiorno milanisti un'iscrizione al canale perché più siamo più contiamo che proprio la lagna la lagna che ti viene da farti una pera di vanichina e per non parlare poi di vessicchio che solamente la voce è quella faccia cattiva che c'è rabbiosa arrabbiata a lecce diciamo raggiata e niente quindi no appena esci da casa vuoi sentire allegria vuoi sentire allegria e quindi gigetto ci sta bene grande gigetto ti adoro allora comincio a parlare il bandito ragazzi mi sono a un certo punto mi stavo emozionando mi stavo emozionando mi stavo emozionando perché non sentivo la parola inter è la stessa cosa a vessicchio tutti e due sembra che si siano messi d'accordo però mi stavo emozionando davvero una cosa c'è una il bandito che parla del milan sono del milan e parlava di stefano donati stefano donati che un giornalista di top calcio che criticava il pila e adesso ne parliamo ragazzi iscrizione al canale iscrizione al canale e like al video allora stefano donati critica troppo il milan io a questo punto inizio a pensare che lui faccia il finto milanista che lui non sia milanista sia messo lì solo per criticare il milan ragazzi state attenti a queste cose vi dico non vi fidate dell'informazione italiano soprattutto e quello vuole fare il milanista ma non è un milanista e insomma e vabbè ma che nel senso a me non me ne fregava niente era più per sentire perché no lo criticava e perché lo critica perché stefano donati giustamente io io penso le stesse cose per me il milan è assolutamente un problema sapete qual è il problema del milan la tircheria è tirchio è tirchio vi ho detto l'altra volta che sono come quelle persone che per risparmiare 50 centesimi non si fanno mettere la panna sul gelato non sul cono quando fai e allora io nocciolo e pistacchio la panna no no la panna no cioè così voi pensate al milan che ci aveva zilze in mano e per le commissioni non lo prende poi dite abbe ma sono 15 milioni di commissione sì ma parliamo di un giocatore di 23 anni ragazzi uno che al primo anno ha sfondato che ma di cosa stiamo parlando 55 milioni tutto diviene se invece di di pensare no al costo come 40 e 40 milioni più 15 di commissioni voi dovete fare finta che sono 55 milioni punto se il giocatore ti piace te lo prendi scusate 23 anni mica parliamo di uno di 35 anni che dici ma che dita allora a poi uno che ha già giocare in italia quindi non dovrebbe neanche non c'è il problema no dell'ambientamento e cose varie quindi forte forte ragazzi forte proprio ma pure che lo prendono poi alla fine cioè ragazzi questi non hanno fatto niente ancora siamo a un altro poco a metà luglio e questi ancora non hanno fatto niente capite hanno perso un sacco di tempo ma prima poi l'hanno fatto passare come se l'avessero già preso i tifosi si sono illusi cioè poverini a me giuro a me milanisti mi stanno davvero simpatici e lo giuventino è diverso dal milanista lo dicevo pure nel video del bologna con lo giuventino tu non ci puoi parlare di calcio di calcio non ci puoi parlare non puoi avere una discussione amichevole mi spiego col milanista si con l'interista si con lo giuventino no no ragazzi no e quindi criticava stefano donati perché a stefano donati aveva ragione però e poi alla fine comunque ci ha messo la parola inter quando ha detto perché possono essere anche interisti travestiti da milanisti vabbè vabbè ragazzi e che volete 30 secondi 30 secondi di video sbagliato è stato dai glielo perdoniamo glielo perdoniamo una volta che fa il video sul milano ragazzi approfittiamola non critichiamolo oggi dai passiamo a Vessicchio comincia a parlare Vessicchio inizia a parlare della Juve della Juve mi ero dimenticato che Vessicchio fosse il tifoso della Juve cioè davvero venivano i dubbi ma Vessicchio per chi tifa perché parla solo dell'inter allora comincia a parlare sta arrivando è arrivato di Gregorio del Bonza è un buon portiere un buon prospetto sentire che arriviamo al bello la Juve grazie a Dio ha avuto sempre buoni portieri io sono innamorato di Zoffo di Tacconi di Buffon però Scesni non mi è mai piaciuto ah il portiere il miglior portiere della Juve è stato Peruzzi ragazzi ci può stare no punti di vista c'è chi dice per esempio no per esempio molti dicono Maradona o Pelè no il giocatore più forte anzi prendiamo pure Cristiano Ronaldo e Messi comunque non ammettono mai in mezzo a questi quello che per me è stato il giocatore più forte del mondo di tutti i tempi ma tenete conto che io Pelè non l'ho visto però il giocatore più forte di tutti i tempi per me è stato Ronaldo quello vero però il fenomeno nel senso di che cosa stiamo parlando cioè vogliamo voi se foste allenatori di una squadra fareste giocare Cristiano Ronaldo o Ronaldo il fenomeno ammettiamo che mettete lì nello stesso periodo ecco io Ronaldo il fenomeno comunque vabbè ognuno c'è le sede e quindi ha detto comunque Di Gregorio è un buon prospetto è un portiere che quando da giovanissimo proprio l'Inter l'ha mandato in prestito prima una squadra che non ricordo quale era la prima squadra e poi all'Avellino ed è stato sempre del risultato sempre uno dei migliori nella categoria e ci sta ragazzi quello è forte quello è un bel portiere davvero e quindi stava andando tutto tutto stava andando benissimo quando a un certo punto si è girato ha fatto però ragazzi ricordatevi sempre che può essere anche un gran portiere ma c'è un problema quale problema ci può essere è interista ma che cosa ti va secondo voi un portiere interista se dovesse arrivare se dovesse giocare una finale Inter Juve giocherebbe per far vincere la Juve o per far vincere l'Inter ragazzi davvero l'ha detto davvero l'ha detto ha fatto nove minuti di video tranquilli parlando della Juve e poi l'ultimo minuto come al solito l'ha fatta di fuori come al solito perché sennò lui deve sempre lasciare la firma non la X di ieri perché lui firma con la X l'ha fatta di fuori capite andato a mettere in dubbio l'onestà del giocatore suo del giocatore suo tra Juve perché interista ha detto io degli interisti non mi fido ragazzi capite perché all'inizio del video vi ho parlato della differenza fra un giggetto ho detto giggetto perché il primo video che mi vedo ogni giorno però potrei dire il romagnolo io benzinero cioè stiamo parlando proprio vabbè non voglio fare il paragone perché sennò gli offenderei e diventerei vesticchio pure io però stiamo parlando di due mondi diversi stiamo parlando di due mondi diversi con alcuni ridi sei allegro li senti belli grintosi però scherzosi con altri ti scende il latte ti scende invecchi dieci minuti di video perdi tre mesi di vita ciao ragazzi